Giornate difficili sul territorio abruzzese sul fronte degli incendi che hanno toccato e stanno toccando diverse località. Nell'Aquilano, il bosco tra Monte Reale e Bariteieri, Monte Salviano, la zona tra Pietranseeri e Rivi Sondoli, situazione complessa nel Terramano con il sopralluogo ieri del direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile Mauro Casinghini, danni alla riserva di Puntaderci a causa di un ruogo divampato nella notte domato, nel chietino preoccupa Pizzoferrato. E' questa la geografia delle situazioni più preoccupanti monitorate dalla protezione civile regionale che ha giorno per giorno la mappa delle criticità e che sta organizzando tutti i mezzi possibili con la presenza di tanti volontari, considerando pure la difficoltà a reperire Canadair dal momento che tutta la parte sud dell'Italia sta bruciando. Siamo nella sala operativa della regione Abruzzo con il direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile Mauro Casinghini. La protezione civile sta monitorando costantemente la situazione degli incendi nella nostra regione. C'è anche la mappa alle nostre spalle della criticità nella giornata di oggi. Vogliamo chiedere al direttore innanzitutto qual è attualmente la situazione. Voi state operando con tutti i mezzi possibili ed immaginabili. Sì, diciamo che stiamo pagando la situazione di ieri dove questa mappa sostanzialmente era quasi tutta colorata di rosso tranne una parte che era la provincia di Teramo che era invece colorata di arancione. Oggi come vedete la suscettività all'innesco è media però ovviamente stiamo intervenendo sugli incendi di ieri per cui abbiamo aperti tutti gli incendi di ieri per lo spegnimento in alcuni casi ancora e la bonifica è molto puntuale per altri. La situazione più critica dov'è? Sicuramente a Pizzoferrato Quadri è un incendio che dura da molti giorni. Lo stiamo tenendo sotto controllo quantomeno con i mezzi aerei anche con l'aiuto della flotta di Stato. sta operando un canader, da ieri c'è anche Montereale che ci sta dando del lavoro da fare, anche lì stiamo aspettando un mezzo dello Stato. Ieri siamo intervenuti, io stesso personalmente sono stato lì tutto il giorno a Miano, a Teramo, per un altro incendio dove invece era a lavoro il nostro elicottero regionale che in questo momento invece sta lavorando a Capistrello vicino in provincia dell'Aquila.